I prognoni! Unipulisardi! Unipulisardi! L'esasperazione stavolta hanno deciso di urlarla dall'alto. I lavoratori di Alba Service parlano dal cornicione di Palazzo Adorno, sede della provincia di Lecce. Un'occupazione più che simbolica. Altri colleghi erano in sala giunta, vogliono risposte e soldi. Alba Service è la società partecipata della provincia di Lecce che si occupa di servizi sociali, manutenzione delle scuole, manutenzione del verde pubblico e sicurezza stradale. Conta 130 dipendenti. Il riordino delle province, voluto dalla legge del Rio, insieme alla legge di stabilità, che di fatto tagliano competenze e fondi agli enti locali, sono già una minaccia ai posti di lavoro. In Puglia si aggiunge il fatto che dalla regione non sia ancora arrivata la distribuzione delle competenze ai vari enti. E in mezzo ci sono i lavoratori, che proprio non ci stanno a guardare senza far nulla la partita delle responsabilità. Non ci pagano gli stipendi. Oggi ci hanno fatto intendere che gli stipendi non ce li pagano. Stiamo andando a Bari, stiamo andando in provincia, all'azienda. Per noi non c'è previsione di futuro. La regione ci dice che è colpa della provincia, la provincia ci dice che è colpa della regione. Noi siamo qui, stiamo occupando la provincia, abbiamo messo i nostri striscioni per far capire a tutti che è un caos, un casino, un casino. Qua non ci vogliamo pagare, noi non sappiamo più cosa fare. Nel 2011 il bilancio di Alba Service era positivo, non solo dal punto di vista finanziario, ma anche per quanto riguarda le attività svolte dalla partecipata e le prospettive di investimento. Quattro anni fa, quindi, Alba Service non era un peso rispetto ad altre partecipate. Con la carenza di fondi, come è cambiato il piano di impresa? Quali opportunità o progetti alternativi ai lavori tradizionalmente svolti di pubblica utilità ci sono stati e ci sono? E quanto costano gli organi di gestione?